Musica Produco pollame, sono una produzione di avicoli, sono nella zona del Torinese. Il nostro prodotto che produciamo vorremmo che fosse più valorizzato, meno comprare prodotto dell'estero, comunque perché non conosciamo come vengono prodotti, non sappiamo come vengono allevati. Invece noi italiani comunque siamo sempre stati leader sia del benessere animale che della produzione della carne molto elevata, quindi pensiamo che è giusto che compriamo carne italiana per avere un prodotto che conosciamo e che sia valorizzato e che sappiamo come viene allevato. Abbiamo della carne buona e non è corretto che noi andiamo a comprare vero a basso costo dall'estero della carne, non siamo sicuri di come sia stata allevata. Nella mia azienda abbiamo molta cura del pollo, del benessere animale, abbiamo delle tecnologie di salvaguardia dell'animale per farli crescere con naturalezza e tranquillità. Abbiamo dei controlli per vedere se l'animale mangia, se sta bene, molto elevati per sapere com'è la crescita dell'animale ogni fase della sua crescita.